buon pomeriggio a tutti pace bene iniziamo queste letture del giorno nel penultimo giorno di festa della madonna del carmine iniziamo con il canto lodate dio seconda strofa lodate dio padre che dona ogni bene lodate dio ricco di grazia e perdono cantate a lui che tanto gli ominiamo da dare l'unico figlio nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen carissimi buon sabato siamo arrivati alla vigilia dell'ultimo giorno solenne dedicato alla madonna del monte carmelo e anche oggi ascolteremo la parola di dio e come ieri cercheremo di tirare fuori un insegnamento da quello che gesù ci dirà oggi ieri abbiamo parlato dell'importanza di vivere la nostra vita non giudicandoci gli uni verso gli altri ma facendo sì che la nostra vita possa essere piena solo di fede di amore e di gioia e di gioia fraterna e lasciando che dio solo giudichi noi e oggi ascolteremo queste letture e vedremo che cosa ci insegnerà oggi gesù iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera e poi ci insegnerà oggi in terra gli uomini amati dal signore noi ti lodiamo ti benediciamo ti adoriamo ti glorifichiamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa signore dio re del cielo dio padre onnipotente signore figlio unigenito gesù cristo signore dio agnello di dio figlio del padre tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi tu che togli i peccati del mondo ascolta la nostra supplica tu che siedi alla destra del padre abbi pietà di noi perché tu solo il santo tu solo il signore tu solo l'altissimo gesù cristo con lo spirito santo nella gloria di dio padre gloria in excelsis deo gloria in excelsis deo dal libro del profeta michea guai a coloro che medita che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli alla luce dell'alba lo compiono per chi in mano loro è il potere sono avidi di campi e li usurpano di case e se le prendono così opprimono l'uomo e la sua casa il proprietario e la sua eredità perciò così dice il signore ecco io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta perché sarà un tempo di calamità in quel tempo si intonerà su di voi una canzone si leverà un lamento e si dirà siamo del tutto rovinati ad altri e gli passa l'eredità del mio popolo non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del signore parola di dio prendiamo grazie a dio ascolta signore le suppliche dei poveri insieme ascolta signore le suppliche dei poveri perché signore ti tieni lontano nei momenti di pericolo e ti nascondi con arroganza il malvagio perseguita il povero cadano nelle insidie che hanno tramato ascolta signore le suppliche dei poveri il malvagio si vanta dei suoi desideri l'avido benedice se stesso nel suo orgoglio il malvagio disprezza il signore dio non ne chiede conto non esiste questo è tutto il suo pensiero ascolta signore le suppliche dei poveri di spergiuri di frodi e di inganni appiena la bocca sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza sta in agguardo dietro le siepi dai nascondigli uccide l'innocente ascolta signore le suppliche dei poveri eppure tu vedi l'affamato e il dolore li guardi e li prendi nelle tue mani a te si abbandona il misero dell'orfano tu sei l'aiuto ascolta signore le suppliche dei poveri Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo affidando a noi la parola della riconciliazione Alleluia, 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 Alleluia Dal Vangelo di Matteo Gloria a te o Signore In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia Ecco, il mio servo che io ho scelto il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia non contesterà né griderà né siudrà nelle piazze la sua voce non spezzerà una canna già incrinata non spegnerà una fiamma smorta finché non abbia fatto trionfare la giustizia nel suo nome spereranno le nazioni Lode a te o Cristo Carissimi fratelli e sorelle ieri abbiamo parlato dell'importanza di non giudicare ma di amare e di insegnare la parola di Dio in tutto il mondo Ecco, oggi sentiamo questo Vangelo che ancora una volta ci insegna una cosa importante Il Vangelo dice Il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento annuncerà alle nazioni la giustizia non contesterà né griderà non spezzerà una canna già incrinata non spegnerà una fiamma smorta Carissimi quante volte, come abbiamo detto ieri noi contestiamo ogni cosa a volte perdiamo la pazienza e gridiamo quante volte noi facciamo così? e qualcuno potrebbe dirmi molte volte però, carissimi questa è la fragilità umana e noi sappiamo che a questa fragilità umana noi abbiamo una cura e qual è questa cura? Cristo Gesù stesso quante volte il Signore ci ha detto di stare accanto a Lui e se noi veramente stiamo accanto a Gesù noi sentiamo davvero quell'amore nel nostro cuore che ci impedisce di arrabbiarci e di urlare ma di vivere sempre la nostra vita col sorriso con la tranquillità e con l'amore quanti santi si sono comportati così fin dall'inizio del tempo? tantissimi pensiamo ad esempio a Sant'Antonio di Padova che in ogni momento della sua vita andava sempre a predicare a guarire a confessare quante volte anche lo stesso San Francesco durante tutta la sua vita l'ha vissuta mai urlando ma sempre annunciando il Vangelo e facendo capire soprattutto ai suoi frati l'importanza di vivere nell'amore di Dio oppure Santa Maria Goretti Santa Maria Goretti che potremmo dire che è la Santa che ci ha insegnato oserei dire più di tutti dopo ovviamente Cristo Gesù l'importanza di non solo non arrabbiarci ma l'importanza di ricordare che ogni uomo è figlio di Dio e ogni uomo o donna che ha commesso qualcosa contro di noi devono essere perdonati tutte queste cose che però io in questo momento sto dicendo sono cose bellissime e noi possiamo ogni giorno vivere la nostra vita così cioè voglio vivere la mia vita pregando Dio amando Dio annunciando la parola di Dio in tutto il mondo non voglio gridare non voglio giudicare non voglio contestare ma voglio aiutare i poveri voglio aiutare le persone in difficoltà anche magari economiche voglio pregare affinché veramente il mondo si possa convertire e non più vivere con questa malvagità ecco tutte queste cose sono possibili al giorno d'oggi? certamente perché l'amore di Dio carissimi fratelli e sorelle è qualcosa di solenne è qualcosa di enorme vi ricordate che cosa ha detto Gesù domenica scorsa? non portate né borsa né sacca né due tuniche ma portate solo un bastone e i sandali basta e noi abbiamo detto l'abbiamo detto anche il 16 il 16 luglio io vi avevo posto questa domanda e vi ho detto ma con soltanto un bastone e due sandali come pensiamo di fare un viaggio lungo? perché tutto quello che ci serve ce lo dà Gesù abbiamo detto la sua santa protezione e quando Gesù è dentro di noi quando ad esempio prendiamo l'Eucaristia che Gesù l'Eucaristia entra sacramentalmente nel nostro cuore noi ci sentiamo forti e ci sentiamo pronti per intraprendere un cammino perché Gesù è con noi lo stesso discorso vale per quello che oggi ci ha insegnato il Vangelo noi quando diffondiamo la parola di Dio quando andiamo ad annunciare a tutti l'importanza di credere nell'amore di Dio lo facciamo perché l'amore di Dio è dentro di noi è questo fratelli e sorelle che a noi ci dà la possibilità ogni giorno di alzarci di combattere il male di vivere la nostra vita in Cristo Gesù e appena ci accorgiamo di aver commesso magari un peccato grave noi lo vogliamo subito confessare perché facciamo tutto questo? perché l'amore di Dio è in noi abbiamo sentito anche nel Vangelo una cosa importante non spegnerà una fiamma smorta ok? ecco vi ricordate quando io vi ho parlato della fiamma dello Spirito Santo? la fiamma che appunto ci fa vivere la nostra vita nella luce e ci tiene pronti ecco davanti a ogni tentazione del maligno quando noi pecchiamo mortalmente come vi ho detto è come se noi prendessimo una candela la accendiamo la mettiamo fuori sul balcone e a un certo punto arriva un vento fortissimo cosa succede? che questa candela piano piano la fiamma si riduce fino addirittura quasi a spegnersi ecco queste persone che hanno questa fiamma smorta potremmo dire sono coloro che peccano sempre che sono sempre peccatori che cadono sempre nel peccato e a furia di peccato 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 soprattutto quello grave la fiamma dello Spirito Santo si abbassa Gesù è venuto proprio per questo per rialzare chi è caduto e per ridare forza ed energia alla fiamma dello Spirito Santo di ognuno di noi come abbiamo detto tante volte la fiamma dello Spirito Santo non si può alimentare con della legna o col carbone o con la benzina ma si deve alimentare di opere buone e di fede ma allora qualcuno potrebbe dire ma io per fare opere buone e degne per fare bene e per mettere in pratica bene tutti gli insegnamenti di Gesù chi è che mi dà una mano per farmi capire bene qual è la via di Gesù quali sono gli insegnamenti di Gesù chi è che mi aiuta e Gesù stesso in persona come ha detto a Santo Maso io sono la via la verità e la vita Gesù è vita se noi veramente viviamo in Lui l'amore di Dio è perfetto in noi e chi ha l'amore di Dio nel cuore aiuta tutti vuole bene a tutti ama tutti soprattutto quelli che sono più poveri perché coloro che sono più poveri più emarginati anche i peccatori quelli proprio più incalliti di tutti cioè magari ci sono peccatori che peccano da anni anni e anni e secondo loro va bene no? peccare ecco queste persone soprattutto sono le persone che Gesù ha più a cuore e qualcuno potrebbe dire ma come ha più a cuore? sono peccatori che peccano ogni giorno chissà quante volte Gesù ha a cuore queste persone sì sì perché Gesù non la ragiona come noi noi quando vediamo una persona brava buona che ci dà una mano che è d'accordo con le nostre idee noi siamo contenti diciamo sì brava guarda che brava persona sì 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 ma se vediamo invece una persona arrogante una persona che pecca una persona che bestemmia una persona che fa cose malvagie sapete come ragioniamo noi esseri umani? e questo è vero non possiamo nasconderci dietro a questa verità cosa diciamo noi quando vediamo una persona del genere? ma guarda che persona mamma mia ma io non ci sto vicino guarda un po' com'è quella lì ma pecca sempre bestemmia mamma mia io non ci sto più vicino a questa persona ecco dove lo sbaglio perché se ci fosse in mezzo a noi Gesù e c'è e sente questo discorso sapete che cosa ci direbbe? ci direbbe no figli voi dovete ragionare che questa persona che sta peccando che bestemmia che vive la sua vita solo nel piacere nella vita mondana non va più in chiesa chissà da quanti anni è una persona che ha la fiamma dello spirito santo smorta cioè una fiamma che si sta quasi per spegnere e quando noi vediamo una persona così il nostro istinto dei cristiani cattolici invece dovrebbe ragionare così no questa persona non sta vivendo bene la sua vita io devo aiutare questa persona affinché possa smettere di bestemmiare possa smettere di fare cose brutte e si converta per far sì che si possa salvare questo fratelli e sorelle è la verità noi dobbiamo sempre diffondere la parola di Dio e la dobbiamo diffondere non tanto per chi è buono ma noi dobbiamo diffondere la parola di Dio in tutto il mondo soprattutto per chi è nel peccato chi fa ogni giorno cose oscene e cose brutte a loro soprattutto deve essere proclamata la parola di Dio perché ognuno di noi vuole essere salvato per volontà di Gesù e noi dobbiamo sempre diffondere la parola di Dio specialmente verso coloro che sono più in difficoltà coloro che hanno più bisogno di misericordia ecco qual è il vero compito di un profeta e di conseguenza ogni ogni cristiano cattolico ha questo compito perché quando noi siamo stati battezzati siamo diventati sacerdoti re e profetti ecco e uno dei nostri compiti come cristiani cattolici è questo andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura e io aggiungerei soprattutto a coloro che hanno più bisogno di misericordia ecco questo è il vero compito del cristiano annunciare soprattutto a chi non crede o a chi ha dimenticato la via soprattutto a queste persone bisogna annunciare la parola di Dio perché possano comprendere l'amore di Dio e possano salvarsi dalla loro condotta di vita malvagia l'abbiamo detto tante volte ma lo ripetiamo perché è importante Gesù non è andato sulla croce solo per i buoni o solo per i cattolici negativi Gesù è andato sulla croce per tutti perché voleva salvarci tutti e questo è l'insegnamento più grande che Gesù ci ha lasciato amatevi gli uni gli altri senza distinzioni perché noi diamo troppi pregiudizi alle persone diciamo questa persona è così non mi piace questa persona è troppo arrogante no 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 non ci sto vicino no questa persona ha una faccia che non mi piace no questa persona sì gli voglio bene perché ad esempio è d'accordo sulle mie stesse idee no questa persona mi ha detto delle idee troppo diverse dalle mie no 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 non sono d'accordo non ci voglio stare no fratelli e sorelle perché questo non è essere chiesa questo è essere tutto il contrario se abbiamo detto che la chiesa è unita la chiesa è una sola significa che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri allora molti possono dire ma amarci gli uni gli altri non è facile in realtà lo è facile ma è soprattutto la nostra volontà di farlo perché Gesù c'è e Gesù ci dona tanto amore ma poi noi dobbiamo metterlo in pratica questo amore e se veramente abbiamo compreso gli insegnamenti di Gesù è facile ma se non abbiamo compreso ciò che Gesù ci ha detto non ce la faremo mai a instaurare un legame di pace e di amore internazionale invece è proprio quello che ci dice Gesù amatevi gli uni gli altri perché Gesù ci ha dato un insegnamento importante lui sulla croce non ci è andato solo per l'Italia o per Israele o per l'Europa no Gesù è andato sulla croce per tutto l'universo quindi Gesù ci ha insegnato questo lui si è sacrificato per tutto il mondo e anche noi da questo dobbiamo comprendere il che cosa sia veramente il vero amore della Chiesa l'amore che Dio ha messo nel cuore di ognuno di noi quello con il quale dobbiamo amare gli uni gli altri soprattutto chi ha la fiamma smorta quindi soprattutto chi è nel peccato grave non riesce ad uscirne Gesù ci prende per mano ogni giorno e tira fuori dalla fossa chi è caduto nel peccato e se noi a questa persona gli annunciamo il Vangelo a un peccatore gli annunciamo il Vangelo gli facciamo capire l'importanza della fede e questa persona magari si converte sarà salvata proprio perché noi abbiamo insegnato a lui la parola di Dio ma soprattutto lui con la sua volontà ha voluto credere non a noi ma ha voluto credere a Dio e ha detto Signore aiutami e chiunque dice Signore aiutami e si pente di quello che ha fatto nella sua vita Gesù lo prende per mano e lo tira fuori da quella fossa come ad esempio i carcerati i prigionieri coloro che hanno fatto magari anche degli omicidi non pensiate che Dio queste persone non se le ricordi Dio se le ricorda molto bene questi prigionieri e se questi prigionieri anche nelle carceri si pentono e vogliono uscire e quando escono vogliono davvero rivivere la loro vita insieme con Dio se veramente sono pentiti di quello che hanno fatto Dio li perdona ecco quello che ci ha insegnato oggi Gesù l'amare noi dobbiamo amare tutti dobbiamo insegnare a tutti l'importanza di vivere nell'amore ma non nell'amore verso noi stessi nell'amore verso il prossimo perché è questo il vero amore che Gesù ci ha insegnato amatevi gli uni gli altri come Maria che si è fidata dell'amore di Dio e con questo stesso amore che Dio gli ha dato Maria ama noi ama noi fino alla follia Maria ci ama con tutto il cuore perché vuole che ognuno di noi venga salvato e allora carissimi fratelli e sorelle preghiamo allora al Signore Gesù perché veramente ogni giorno ci aiuti a fare quello che è scritto nel Vangelo di oggi il mio amato annuncerà alle nazioni la giustizia non contesterà né griderà non spezzerà una canna inclinata non spegnerà una fiamma smorta finché non abbia fatto trionfare la giustizia nel suo nome spereranno le nazioni allora impariamo fratelli e sorelle a vivere la nostra vita non urlando né giudicando ma annunciando a tutti la parola di salvezza che è proprio la parola di Gesù Cristo impegniamoci ogni giorno a vivere la nostra vita con questa certezza io sono un uomo io diffondo la parola di Dio non sia mai fatta di me la mia volontà ma sia fatta sempre su di me la volontà di Dio Padre il Signore mi aiuti a vivere la mia vita nella sua volontà unica volontà che salva preghiamo allora davvero il Signore perché ogni giorno ci aiuti ad aiutare ad amare e a servire chiunque sia bisognoso viva Gesù viva la Chiesa viva Maria grazie a tutti fratelli e sorelle per la vostra partecipazione domani domani è l'ultimo giorno di festa in onore della Madonna del Carmine e i momenti di preghiera saranno i seguenti domani mattina alle 11 le letture solenni della Madonna del Carmine con la riflessione che verrà fatta non da me ma da mia mamma perché in questi due giorni abbiamo fatto due riflessioni molto lunghe e credo di aver parlato già abbastanza quindi l'ultimo giorno lo faremo fare da mia mamma sempre domani alle 12.30 mezzogiorno e mezza mia nonna insieme con me e insieme con voi leggerà le letture in onore della festa del grano perché qui da noi nel paese di Suvero c'è la festa del grano con la quale ringraziamo Dio per il dono di questo grano che è fondamentale nella nostra vita e poi alle 18 le letture domenicali con le quali concluderemo la giornata ripetiamo 11 domani alle ore 11 letture della Madonna del Carmine 12.30 letture festa del grano 18 letture domenicali finali grazie a tutti per la vostra partecipazione concludiamo con l'indo alla Madonna tu che dire bocco e buona giornata a tutti voi tu che dire bocco sei madre sei regina tu dal Carmelo mostrati solo in lo sguardo inchina nel nome tuo dolcissimo l'umano sdegno tace regina del Carmelo regina dell'amor regina del Carmelo regina dell'amor buona giornata a tutti voi grazie a tutti